guarda i posti dove sei andato? di qua passa passa che ti butto no no io butto gli altri mi sono messo qua apposta no no osti qua è un po' quella di là era bello c'era dentro le piantine ma l'ho fatta in tempo ne volevo prendere una e mettere una vasca dei pesci ma non avevo tempo come vai avanti? qua c'è una posizione inconsueta c'era lì il sasso che mi teneva adesso mi mandi avanti e ho visto che ti sei piantato ah io ho tenuto tutto la destra chi è? è un po' è un po'